Genoa Juve Genoa Juve, le formazioni ufficiali, Allegri non sorprende, Juric conferma Genoa Juve. . Quest'anno la solfa deve essere necessariamente diversa per i bianconeri. Alle 18 si comincia, di seguito le formazioni ufficiali. . Juric prosegue sulla propria linea del 3-4-3, tra scelte obbligate e ancora poche certezze. Un punto fermo è però il centrocampo, con l'Axaltela Zovic sulle corsie con Miguel Veloso e Bertolacci in mezzo. . Davanti l'unico riferimento è Galabinov, alle sue spalle Taharab Tepandev. In difesa davanti a Perin spazio per Biraschi, Rossettini e Gentiletti. Solo panchina per la padula, parzialmente recuperato. . Genoa 3-4-3, Perin, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Lazovic, Veloso, Bertolacci, L'Axalt, Pandev, Galabinov, Tarebt. All. Juric. La formazione del Genoa CFC Cancelletto Genoa Juventus Cancelletto Serie A Team PIP. Twitter. Con barra MLHK2VQ40P Genoa CFC Chiocciola Genoa CFC, 26 agosto 2017. . . Solito 4-2-3-1 invece per Allegri, che non ha a disposizione Marchisio e Piaka per infortunio, oltre che Asamo ha, non convocato e verso l'accessione. . . Nell'11 titolare cè solo un cambiamento rispetto a quello visto all'esordio contro il Cagliari, peraltro obbligato, che Dira prende il posto proprio di Marchisio tra i due di mezzo, al fianco di Pjanic. . Davanti scelto ancora Quadrado al posto di Douglas Costa, con Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain. In difesa davanti a Buffon solo conferme. Juventus 4-2-3-1, Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Aleksandro, Kedira, Pjanic, Quadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain. All. Allegri. . Juventus 11, Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Aleksandro, Kedira, Pjanic, Quadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain-Cancelletto Genoa Juve Juventus FC Chiocciola Juventus FC, 26 agosto 2017. .